In attesa di ospitare la trentesima edizione della benedizione del motociclista, domenica 12 aprile Belluno, sabato scorso, presso il Bar al Duomo, ha colto un'icona del motociclismo nazionale, l'ex pilota ufficiale Ducati nel mondiale Superbike, Giancarlo Falappa. Il leone di Iesi, così soprannominato per la tenacia durante l'attività agonistica, a cavallo tra gli anni 80 e 90, ha fatto tappa nel capologo per salutare gli ammiratori del suo fan club con autografi e scambiando quattro chiacchiere con tutti gli appassionati presenti a questo appuntamento. Esposta all'esterno del locale c'era anche una Ducati 851, una delle moto usate da Falappa nel mondiale delle derivate di serie.